Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo dello stato delle terapie intensive, di come vengono curati oggi i malati gravi di Covid e della sindrome del Long Covid. Lo facciamo con il professor Nicola Latronico, primario del reparto anestesia e rianimazione degli ispedali civili di Brescia e professore all'Università di Brescia. Oggi è il 24 novembre 2021. Buongiorno professor Latronico e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, buongiorno e grazie davvero a voi per l'attenzione. Quando ci siamo sentiti con lei, ormai un anno fa ci aveva parlato del monitoraggio dei pazienti dimessi dalla terapia intensiva. Come sta procedendo quello studio? Come si sentono i pazienti che sono stati ricoverati per Covid una volta che escono dall'ospedale? Allora direi che ci sono importanti novità, nel senso che il progetto che in gergo abbiamo chiamato di follow up si è ulteriormente evoluto, al punto che proprio nelle ultime settimane la regione Lombardia, riconoscendo la validità del progetto, ha determinato che queste attività di follow up dei pazienti dimessi dalla terapia intensive si estenda all'intera regione, avendo come capofila Brescia. Questo devo dire che è un importante riconoscimento anche per tutti gli sforzi che il team qui a Brescia ha fatto. il risultato più concreto è il fatto che noi siamo riusciti a seguire tutti i pazienti dimessi dalle terapie intensive degli ospedali civili per un anno e abbiamo di recente pubblicato i risultati su una importante rivista scientifica britannica che si chiama Thorax e sono stati i primi dati al mondo pubblicati in quest'ambito. Che cosa fanno vedere? Molto sinteticamente che certamente questi pazienti hanno problemi rilevanti in tre ambiti. Il primo è l'ambito fisico, cioè sono persone, più o meno il 30% di queste persone lamenta debolezza muscolare invalidante. A parte ciò che lamenta, obiettivamente queste persone hanno una riduzione della forza muscolare misurata in maniera oggettiva e hanno anche una notevole riduzione della resistenza al cammino. Il fatto importante e secondo noi in qualche modo positivo è che sebbene tutto ciò sia vero, il paragone con pazienti della stessa gravità in epoca pre-Covid fa vedere, ripeto in questa nostra esperienza locale che quindi dovrà essere confermata da altri, che gli esiti sono meno gravi nei pazienti Covid che non nei pazienti con la stessa gravità di epoca pre-Covid. Che è, se non ricordo male, quello che già ci diceva peraltro con i primi risultati dell'ottobre 2020. È così, esattamente. Erano risultati preliminari limitati ai primi tre mesi all'epoca di valutazione, adesso siamo arrivati ad un anno e come dicevo al momento ancora adesso i dati sono stati pubblicati a settembre, ancora adesso non ci sono dati del genere su pazienti di questa gravità. C'è pazienti che hanno avuto questa famosa sindrome ARDS, che è la sindrome di stress respiratorio acuto, neanche del gruppo di Wuhan che è quello che purtroppo è stato investito prima dallo tsunami. Questo a dire che la combinazione di avere un centro di follow-up dentro l'ospedale e un centro di ricerca che è stato creato e che forse vi avevo già citato, che è un centro di ricerca universitario che si chiama Alessandra Bono, ha determinato davvero una sinergia efficacissima. Ma questo tipo di sintomatologia è legato, cioè di fatto la fatica è legata ancora a un deficit polmonare e quindi di ossigenazione o cioè si sa a che cosa è legato? Allora non sembra proprio legato al deficit di ossigenazione perché quello che abbiamo visto è che col passare dei mesi gli aspetti polmonari sono andati via via migliorando, non sono guariti tra virgolette del tutto, sono rimasti degli esiti, però per esempio queste persone soggettivamente non lamentano mancanza d'aria, se non eccezionalmente. Ciò nonostante, come vi dicevo, più o meno il 30% di questi, quindi un paziente su tre continua a lamentare fatica. Per farvi un parallelo dei pazienti con questa sindrome RDS in era pre-Covid, i pazienti che lamentano la fatica ad un anno rappresentano il 70% e non il 30%. E a questo proposito si parla di long Covid, è questa la sindrome di cui sta parlando oppure esiste una definizione univoca in che pazienti è stata osservata? Long Covid è una condizione che perdura nel tempo e non si risolve dopo un certo numero di settimane. Ci sono una serie, per la verità ci sono diverse definizioni e non c'è univocità su questo, però il concetto di fondo è una volta che la fase acuta di malattia è passata, che la persona si è ripresa, i sintomi persistono per diverse settimane e quindi nell'ambito specifico della terapia intensiva questi pazienti certamente rispondono anche alla definizione di long Covid. Diciamo che in qualche modo i pazienti di terapia intensiva si sono avvantaggiati del fatto che queste strutture di follow up erano state predefinite, esistevano prima del Covid, perché questa sindrome post terapia intensiva era stata già identificata. Ma ci sono delle differenze tra i sintomi di chi esce da una terapia intensiva e chi invece ha avuto un Covid senza doversi recare in ospedale e presenta sintomi anche a lungo termine? Come dicevo questo è fuori dalla mia esperienza e quindi diciamo che la risposta è sì, ci sono differenze profonde, pensate che hanno classificato più o meno 200 sintomi e segni clinici che sono tipici dei pazienti Covid, che vanno dalle alterazioni dell'olfatto, alle alterazioni del gusto, alla debolezza muscolare, all'affaticamento, a quello che chiamano brain fogging con questo termine, diciamo che è come sempre derivato dall'esperienza inglese, su questa sorta di capacità ridotta di concentrazione, di attenzione, perché abbiamo imparato certamente che è una malattia multisistemica, quindi non colpisce solo i polmoni, colpisce diversi altri organi, cervello, reni, cuore, muscoli e quindi i sintomi in qualche modo rappresentano gli esiti di dove il virus ha esercitato con maggiore intensità il suo effetto negativo. E invece qual è lo stato delle terapie intensive attualmente? Vedete un incremento negli ultimi giorni? In Lombardia, diciamo la Lombardia ha definito una serie di centri che ha chiamato hub, quindi di centri che sono rimasti aperti sempre e Brescia è uno di questi. Grosso modo fino a qualche giorno fa avevamo un po' più di 40 pazienti in tutti questi centri hub della regione Lombardia, che se ricordo bene sono sette. Negli ultimi giorni, per la verità, c'è stato un incremento dei casi prevalentemente in area metropolitana, quindi nell'area di Milano il numero dei ricoveri ha cominciato ad aumentare non in terapia intensiva, in ospedale. Il timore qual è? Fate conto che le stime sono più o meno di 40-50 pazienti ricoverati ogni giorno negli ospedali milanesi e purtroppo abbiamo imparato nelle ondate precedenti che poi una percentuale di questi, che nei tempi passati era del 10%, potrebbe ulteriormente peggiorare e aver bisogno di terapia intensiva. Quindi siamo molto cauti e molto attenti a ciò che sta succedendo. Brescia al momento sembra essere un po' risparmiata da ciò, però può darsi che siano fenomeni temporanei e quindi un'osservazione così breve non consente di fare delle stime efficaci, delle stime solide. E com'è cambiato invece durante la pandemia il modo in cui vengono trattati i pazienti in terapia intensiva? Immagino si sia imparato più di una cosa in questi mesi. È così e sicuramente se guardiamo i dati, questo è un po' in tutto il mondo, anche lì dove, parlo della Gran Bretagna, dove continuano ad avere problemi assolutamente rilevanti e però hanno una struttura che consente l'analisi dei dati in maniera molto efficace, hanno dimostrato sicuramente una riduzione della mortalità col progredire dell'esperienza, addirittura fra l'inizio della prima pandemia e la fine della prima pandemia. E lo stesso sta succedendo a noi. La mortalità, per dire l'esito più drammatico, era intorno al 42%, quindi davvero impressionante all'inizio della prima pandemia e adesso è 34-35%, quindi ancora molto alta ma minore. Questo perché abbiamo imparato a curarli meglio, ma abbiamo soprattutto più risorse perché il numero dei malati è diminuito. In passato noi siamo stati costretti a raddoppiare il numero dei posti di terapia intensiva e chiudendo le sale operatorie, come ben sapete, facendo tutto quanto era necessario. Oggi io credo che la maggiore differenza sia questa, che non vi è più la sproporzione tra le risorse necessarie e i malati che ne hanno bisogno, anche perché i farmaci alla fine un unico farmaco ha dimostrato la capacità di ridurre la mortalità che è il cortisone. Il cortisone adesso inequivocabilmente è in grado di ridurre in maniera significativa della mortalità, non così altri farmaci. Grazie mille professore. Grazie a voi, grazie davvero della vostra continua attenzione a questo problema. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero. Grazie a voi.